Buonasera, benvenuti a tutti. Questo è l'ottantesimo podcast del Movimento Zagast Italia, è domenica 16 settembre e per la prima volta facciamo il nostro podcast da Discord, che è la nuova piattaforma scelta internazionalmente dal Movimento Zagast per fare i propri incontri online, le proprie riunioni, oltre ad offrire un sacco di risorse, di canali dove approfondire tematiche, far partire progetti eccetera eccetera. Abbiamo aggiornato sulla pagina del sito le istruzioni per connettersi, non ci sono più le istruzioni di Teamspeak che è andato definitivamente in pensione, quantomeno per il movimento, e ci sono quindi adesso tutte le istruzioni per utilizzare la nuova piattaforma. Non spaventatevi perché è molto più semplice di quanto era in passato, basta cliccare un link e già si riesce a connettersi al server. Poi se uno vuole crearsi un profilo ci sono un po' di passaggi in più, ma il grosso, diciamo che per un primo approccio è molto semplice. Allora, è un po' che non registriamo dei podcast veri e propri, abbiamo fatto dei Teamspeak durante tutto questo tempo perché infatti il podcast precedente è addirittura del giugno 2017. Da allora ci eravamo lasciati con un bel evento a Roma presso il Teatro Azzurro Scipioni di Agosti, di Sirono Agosti, dove abbiamo fatto il Festival del Pesiero Sostenibile in cinque giornate, ogni sabato sera o venerdì sera, e ho superato questo evento. Sostanzialmente inizio 2018 ha portato avanti i soliti incontri tra attivisti qui a Milano, dove abbiamo i nostri soliti progetti tipo l'Orto Cittadino, piuttosto che alcune riunioni al Chiamamilano. Abbiamo organizzato quest'anno lo SIDEI presso l'Accademia Shaolin di Milano, Shaolin Temple, dove ha partecipato sorprendentemente molta gente, l'abbiamo organizzato un po' tardi rispetto al solito, è stato fatto addirittura il 22 aprile, però abbiamo avuto una discreta partecipazione di pubblico, abbiamo proiettato vari filmati, tratti un po' dai film, un po' dalle web series Culture in Decline, e poi abbiamo cercato di parlare abbastanza con il pubblico, e il tutto poi si è concluso con una bella serata da un indiano lì vicino, un ristorante indiano, abbiamo fatto tanti nuovi contatti. Molte persone ci hanno chiesto quando è che ci possiamo vedere, mi ricordo vari attivisti che mi scrissero dicendo, ma come mai non organizzate mai nulla giù nel sud Italia, arrivare fino a Milano, lontano, eccetera. E quindi questa estate abbiamo pensato di organizzare una vacanza tra attivisti per stare insieme e parlare delle tematiche Zeitgeist in una maniera un po' più rilassata, meno professionale, meno stile conferenza. E così è stato fatto, abbiamo organizzato questo Zeitcamp presso la Libera Università di Alcatraz, di Jacopo Fo, l'abbiamo fatto dal 31 agosto al domenica 2 settembre. E non siamo stati tantissimi, anche perché purtroppo abbiamo cominciato a promuovere la cosa a inizio luglio, quindi la gente o aveva già organizzato le vacanze, o comunque magari era già in vacanza, insomma, diciamo che non siamo stati proprio bravissimi con la tempistica, anzi forse a fine luglio abbiamo cominciato a promuovere. A fine luglio, sì. Ma tutto sommato siamo stati pochi ma buoni, come si dice. Abbiamo conosciuto persone molto interessanti, oltre che Jacopo o Mario Pirovano, con i quali abbiamo fatto belle chiacchierate e quant'altro. A proposito, io lascerei la parola un attimo a Veronica per descrivere questo Zeitcamp che si è concluso oramai ancora da poco, quindi è fresco il ricordo, eccetera. Sì, devo dire in realtà, per essere più precisi, ma un secondo, semplicemente io credo che in realtà tra di noi ci siamo organizzati a fine luglio e in realtà abbiamo cominciato a pubblicizzare l'evento proprio i primi di agosto, quindi proprio fuori tempo, secondo me. Invece questa volta poi ne parleremo, insomma, del prossimo evento, speriamo di prenderci molto prima. Allora, la Libera Università di Alcatraz è stata pensata perché già conoscevamo Jacopo Fo e ci aveva dato un'ottima impressione di essere molto disponibile sotto vari punti di vista. Ovviamente la persona eccezionale che tutti noi, penso, immaginiamo sia, e lo è effettivamente, è una persona con la quale puoi parlare di mille cose diverse, ma soprattutto puoi parlare proprio della rivoluzione culturale che noi vorremmo, noi tutti vorremmo. Infatti abbiamo parlato di diverse cose, adesso sento meno l'eco, forse lo sentivano, non lo sentivano, non lo so. Ad ogni modo, appunto il motivo per cui siamo andati in Umbria è stato innanzitutto perché si trova in un posto ideale, cioè al centro Italia, noi pensavamo appunto di riuscire a trovare un posto che fosse, insomma, raggiungibile sia dalle persone che ci seguono dal nord, sia dalle persone che ci seguono dal centro, sia dalle persone che ci seguono dal sud e magari quello era un po' un modo per cercare di facilitare tutto. In realtà poi, appunto, essendoci presi un po' tardi nella promozione dell'evento, la cosa non è avvenuta del tutto, però in parte sì, certamente c'erano alcuni simpatizzanti che ci ha fatto molto molto piacere conoscere, persone molto in gamba e quindi, come si suol dire, pochi ma buoni. Le cose che abbiamo fatto sono state parlare prevalentemente tra di noi, cercare di fare attività anche sociali, anche camminate, passeggiate nel bosco, abbiamo fatto un po' di tutto, abbiamo notato, abbiamo fatto lo yoga della risata, ci siamo divertiti, insomma, quindi abbiamo fatto delle attività con Daniele Berti, niente un po' di meno che il nostro amico Daniele Berti, che è un vero e proprio trainer della risata, insomma, dello yoga della risata, è stato gentilissimo, si è offerto a farci questa video lezione, diciamo così, video sessione di yoga della risata. Io, entrambi i personaggi, sia Daniele Berti, sia Jacopo Fogli, li ho conosciuti grazie alla mia attività di pubblicista giornalista per Italia che cambia e quindi ho intervistato entrambi, li ho conosciuti grazie a questo. Tornando invece appunto al nostro bel weekend lungo, chiamiamolo così perché era da venerdì a domenica, appunto a fine agosto, tra fine agosto e inizio settembre, è stata un'occasione per sì divertirci, ma allo stesso tempo ovviamente parlare delle tipiche tematiche, della possibile riorganizzazione anche con nuovi membri appunto del movimento e possibile riorganizzazione dei GDL, quindi gruppi di lavoro. Ne abbiamo parlato anche con Jacopo Fo, che è stato molto disponibile come sempre, che ci ha veramente assistito in tutto, è stato con noi il più a lungo possibile, abbiamo parlato e fatto delle belle chiacchiate anche con lui e ipotizzato nuovi progetti. Tanto ci ha anche suggerito delle piattaforme di condividere con lui e con il suo team alcuni progetti, adesso dobbiamo ancora approfondire queste cose di cui ci ha parlato, quindi non ve ne parliamo già stasera, ma magari al podcast del mese prossimo magari arriveremo già con qualche informazione in più, magari proprio con qualche progetto di collaborazione in essere. Esatto. E poi un'altra cosa che abbiamo fatto in previsione di un futuro evento è stata l'intervista. Esattamente, poi sì esatto, abbiamo fatto l'intervista, in effetti è stata la prima cosa che abbiamo fatto appena arrivati a Jacopo Fo, perché? Perché avevamo già in mente di poter fare un evento, vista questa occasione ghiotta del cinquantenario dal 68 e visto il fatto che personalmente mi sono interrogata sulla grande similitudine tra ciò che pensavano i sessantottini, il movimento sud-ledentesco e ciò che pensiamo noi oggi e me ne sono accorta così, proprio potrei dire di botto quando ho letto dei giornali originali del 68, grazie ad uno speciale di internazionale, c'era questo giornale del 68 che parlava, o meglio che intervistava i protagonisti della rivolta studentesca, in questo caso francese, e parlavano proprio di tutto ciò di cui parliamo oggi, per cui incredibilmente si parlava già di problemi ambientali, si parlava già di imperialismo, iperconsumismo, insomma di tutta una serie di cose di cui parliamo noi oggi e che abbiamo individuato essere come le cause principali di una società che sta andando un po' allo sfascio. Quindi questa cosa mi ha colpito tanto che ho deciso di approfondire meglio l'argomento, abbiamo letto anche il libro, ma questo proprio per caso, cioè la cosa incredibile è che io avevo già pensato di intervistare Jacopo Fo sul 68, eppure Jacopo Fo nel 68 era abbastanza giovane, quindi ho detto va chissà se effettivamente sarà in grado di darci il suo punto di vista magari proprio di prima mano sul 68, se l'ha vissuto come l'ha vissuto. Poi andando a ricercare un po' meglio mi sono resa conto che lui non solo ne sapeva qualcosa, ma è stato proprio tra i protagonisti, nonostante fosse molto giovane, inizialmente magari con amici più grandi, ha partecipato, e poi mano a mano che gli anni andavano avanti, perché in Italia si dice, in Italia si dice come dicono i protagonisti stessi, che il 68 si è durato in realtà dieci anni, cioè la rivolta studentesca e tutte le cose che venivano rivendicate da chi ha lottato per il 68, ricordiamolo che in Italia sono stati anche gli operai, così come in altre parti del mondo, e non solo gli operai, ma gran parte della popolazione civile, lì è durata, si può dire, in Italia fino al 78, e quindi insomma ha avuto modo di crescere nel frattempo di partecipare, 78 sì, partecipare anche lui attivamente e veramente ha partecipato nel modo più attivo possibile, ed è tutto riportato in un ottimo libro suo che si chiama C'era una volta la rivoluzione, che ha scritto insieme a Parini, un suo compagno di lotta, e che veramente dà uno spaccato incredibile appunto di quegli anni. Quindi con grande sorpresa abbiamo scoperto che c'è stata una bella, una felice intuizione, e così abbiamo deciso di intervistarlo sul 68 proprio perché avevamo intenzione di fare questo evento in concomitanza con il cinquantenario. Così l'abbiamo intervistato, proietteremo durante l'evento un estratto, sarà un estratto di massimo 10-15 minuti, e cercheremo soprattutto di coinvolgere il pubblico. Come cercheremo di farlo? Questa volta appunto come accennavo prima, cercheremo di cominciare a pubblicizzare l'evento abbastanza prima, e uno di questi modi ho pensato magari potrebbe essere quello di cominciare a, come dire, tastare il terreno, vedere un pochino cosa ne pensano le persone che ci seguono sul 68, e quindi per esempio fare le stesse domande che poi alla fine abbiamo rivolto a Jacopo, che sarebbero dove ha vinto il 68 e dove ha perso. Ok, cioè sto semplificando il concetto, però insomma questa è più o meno la cosa, e avevo pensato di lanciare queste domande già da adesso, per esempio tra pochi giorni, sulle pagine Facebook, in modo che, sulle nostre pagine Facebook intendo, in modo che le persone possano già esprimersi e possiamo già cominciare a dire che i commenti più interessanti, che danno veramente un buono spunto per la riflessione, verranno letti poi durante l'evento appunto a Milano. Quindi questo è l'evento che cercheremo di fare e di pubblicizzare, questo sarà il 10 novembre sul 68, per concludere la nostra esperienza che è stata appunto ad Alcatraz, essendo stata molto positiva in realtà ci sarebbe troppo da dire, abbiamo mangiato da Dio. Stiamo per pubblicare comunque un bel report. Esatto, stiamo per pubblicare un report, un piccolo report, un po' di foto e dopodiché comunque sia, insomma tante sarebbero le cose da dire, mi fermo qui. Sì, aggiungo giusto che abbiamo avuto modo di conoscere meglio anche Mario Pirovano, un attore molto interessante che ci ha dato veramente molte belle chiavi per la riflessione anche sullo stato dell'arte in Italia, eccetera, eccetera, tante altre cose. Grande amico ovviamente di Dario Fo, del Fu Dario Fo e suo collaboratore, l'abbiamo anche rincontrato recentemente. Quindi per concludere direi che comunque molto molto positiva come esperienza perché ci ha dato veramente la possibilità di conoscere sia il posto Alcatraz che avevamo in mente già da tanto tempo, sia delle persone fantastiche, ovviamente mi riferisco in primis anche alle persone che ci hanno voluto raggiungere, appunto amici e simpatizzanti che ci hanno voluto raggiungere per questa esperienza e quindi insomma sicuramente da ripetere, abbiamo intenzione di ripeterla. L'anno prossimo saremo molti di più sicuramente. Andando avanti passerei adesso la parola a Cristian, il nostro attivista che si divide tra Roma, Germania, Stati Uniti e il suo Abruzzo, no scusami il Molise, sai che non mi ricordo qual è la tua regione natale. Vabbè comunque ti lascio la parola così ci racconti un po' dei progetti attivi che stiamo, barra stai portando avanti e niente a te la parola Cristian. Sì sì il Molise ma sono un cittadino del mondo insomma come hai detto. Comunque un saluto a tutti. Allora mi ricollego al discorso di Veronica e soprattutto sulle persone che abbiamo conosciuto ad Alcatraz, i nuovi spero futuri attivisti o anche semplicemente simpatizzanti che grazie a loro abbiamo scoperto alcune cose che in realtà già sapevamo però ci è stato confermato che è praticamente una delle prime attività che abbiamo intrapreso nell'ultima settimana ovvero quella di recuperare tutti i vari gruppi vaganti che abbiamo su Facebook attualmente. Quindi abbiamo contattato un po' i vari admin e gli ex attivisti siamo riusciti a creare questa sorta di rete social e linkare cioè collegare tutti i gruppi cittadini alla pagina Zaggast Italia in modo da rendere più accessibile appunto la condivisione di idee e risorse a tutti noi membri. Questo perché le segnalazioni più comuni sono appunto l'inaccessibilità e le lunghe attese per essere approvati come membri nei vari gruppi che purtroppo noi non abbiamo gestito fino a questo periodo. Ora cerchiamo di fare questo grande lavoro che è quello di controllare le notifiche su Facebook per approvare tutti i vari membri perché in pratica vanno tutti lì prima di non so contattarci oppure entrare sul sito e quindi cerchiamo di essere più disponibili possibili. Questo perché comunque ricordiamo il movimento si basa su la collaborazione locale per una nuova coscienza globale possiamo dire così e quindi invito tutti quanti a seguirci sui canali ad attivarsi sui canali per creare in futuro magari dei gruppi cittadini collaborativi condividendo appunto anche delle idee e magari degli eventi come abbiamo fatto alla Libera Università di Alcatraz. Quindi vi invito tutti quanti all'azione. Grazie Cristian. Andiamo avanti. Ovviamente stiamo nella nostra opera di riorganizzazione del movimento non poteva che non passare anche dalla riattivazione del GDL. È sempre rimasto attivo, il GDL sta per chi non lo sapesse, gruppi di lavoro. È sempre stato attivo il gruppo programmazione, cioè per la gestione del sito che anche se comincia può essere un po' vecchiotto obsoleto con alcune magagne, vi assicuro che ci stiamo dietro altrimenti sarebbe del tutto inutilizzabile. Ed è in progetto insomma un restyling, ci sono varie opzioni ovvero quelle di collegarci al sito internazionale, so che ci sono attivisti internazionali che stanno realizzando un sito template dove basta tradurre, mettere i propri contenuti e ci si può agganciare a questo sito. Oppure possiamo farcene uno nostro, magari un po' più moderno, il sito che abbiamo noi è un sito diciamo degli anni del 2000-2005, quindi è sotto forma di forum, sono cose che oramai non vengono più utilizzate, oramai si utilizza il web tramite dispositivi mobili, tramite app, ci sono Whatsapp, Telegram che la fanno da padroni, i siti web con i forum sono usati da piccole nicchie. Stavamo pensando di rendere quindi il sito più che altro una vetrina dove mettere news, dove mettere guide, documenti e togliere tutta la parte di chat, di gruppi, di discussioni che innanzitutto non vengono più utilizzate e appesantiscano tantissimo il sito. Probabilmente cercheremo di creare, insomma, di congelare l'attuale sito per tenerlo come storico e di creare poi un nuovo sito vetrina, capiremo se farlo per conto nostro agganciarci al movimento. E comunque stiamo dicendo che il GDL sicuramente abbiamo trovato nuove persone che ci aiuteranno con il GDL Comunicazione Media, perché ovviamente, come dicevamo, adesso più che mai serve ritornare attivi sui social network. Per esempio settimana scorsa abbiamo creato la pagina Instagram del Movimento Zagast Italia e ci servono appunto delle immagini da caricare, quindi grazie a questo GDL Comunicazione Media avremo i testi e con la riattivazione invece del GDL Grafica e Video creeremo le immagini anche grazie a un'applicazione scovata da Christian che si chiama Canva, che permette di creare queste immagini in un contesto molto facilmente in maniera facile e intuitiva. E quindi ci stiamo preparando insomma per bombardarvi tramite i social network abbastanza aggressivamente. E per concludere, come sempre, nel Movimento Zagast un gruppo di lavoro molto importante è quello delle traduzioni. Nello scorso anno eravamo quasi riusciti a farne partire un piccolo team di traduttori per tradurre il penultimo libro di Peter Joseph, che era la guida definitiva, ma purtroppo gli attivisti li abbiamo persi per strada, non sono andati assolutamente avanti con i lavori. Se ci fosse qualcuno che parla bene l'inglese o altre lingue e comunque voglia dedicare alcune ore del suo tempo a queste attività, ci contatti e insomma cercheremo di far ripartire questo progetto. Ma soprattutto noi ci stiamo un attimo preparando perché prima o poi verrà rilasciato il nuovo film che dovrebbe iniziare una nuova trilogia di Peter Joseph, si chiama Interreflection. e questo nuovo capitolo ovviamente si collega al Moving Forward, all'ultimo film rilasciato oramai sette anni fa e quindi sarebbe molto importante tradurlo in tempi brevi, quantomeno per i sottotitoli, per poi pensare addirittura a un doppiaggio. Quindi i progetti sono sostanzialmente questi, il prossimo evento che verrà organizzato come dicevamo prima è un evento di approfondimento sui 50 anni del 68, come diceva Veronica si è rimasti molto colpiti da molte similitudini che c'erano con le analisi fatte a suo tempo nel 68 che sono molto simili a quelle che facciamo noi e appunto siamo curiosi di capire come mai in realtà poi ci ritroviamo 50 anni dopo ad avere gli stessi problemi e vorremmo sapere un po' anche dalle persone del tempo che cosa secondo loro è stato sbagliato, che cosa è andato storto per cercare di non ricommettere gli stessi errori e trovare una via più efficace per eliminare questi problemi di cui parliamo. Esatto, sostanzialmente, scusami l'interruzione, sostanzialmente la storia si ripete, lo sappiamo, in modo ciclico, quello che importa è riuscire a imparare dalla storia stessa per non ripetere gli stessi errori. Esatto, quindi direi che abbiamo detto tutto quanto, Cristian vuoi aggiungere qualcosa? Sì, voglio segnalare la petizione su Change di Peter Joseph che l'abbiamo già fatto il mese scorso, credo, sulla nostra pagina Zagest Italia, però è sempre buono risegnalare per chi ancora non l'avesse fatto, firmatela, è un invito di Peter Joseph a una conversazione globale. Ah sì, è vero, quest'estate era stata pubblicata. Metteremo i link di tutte le cose di cui abbiamo parlato nella descrizione di questo video, quindi se ci state ascoltando da YouTube potete andare a vedere nella descrizione e troverete questo audio. Vi do appuntamento quindi agli incontri settimanali, ogni mercoledì sera dalle 21.30 in poi, anche 21.45, mentre il prossimo podcast è in programma per domenica 21 ottobre, sempre alle 20.30 e sempre su Discord. Ciao a tutti e alla prossima! Ciao! Ciao!